E rieccoci ancora in via Bissati, però in notturna. Puoi anche parlare? Ah, posso anche parlare? Sì, eh? Diciamo che stanotte, stasera non sei da solo. Sei in compagnia. Aspetta, non farmi dire. Non pensavo che di sera presentasse bene così questa via. È bellissimo, guarda. Sì, sì. Adesso proprio vedrò come viene fuori, ma io penso che sia una cosa splendida. Sì, è vero, è vero. Con tutte le luci gialle, guarda, i lampioncini. Le vetrine illuminate. Bella questa vetrina qua. Sì, con tutto il verde. Sono fatte con gusto. Molto, sì, la tengono bene. Beh, sì. Forse è tutta così la città. Eh, forse è tutta così, veramente. Viene una musica da dentro. Sarà qualcuno che abita sopra. Qui ci dovrebbe essere l'antiquario. Questo. Questo, sì. Eccolo qua. Però ha la vetrina spenta. Peccato che non ha la luce. Ci vediamo noi però, guarda. Che se ci si vede? Io già mi sono riflesso. Eh sì, come Hitchcock. Sono già riflesso. Che ti ha scritto fresina questo. Eh sì, questo l'ha scritto fresina, eh. Buonasera. Come ho visto siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine, sì. Eh, adesso qui siamo in via Gocchieri. Ok, adesso mi giro un attimino. E via. E vedo la mia via Bissati. Oh. Bella, eh. Bellissima. Poi guarda, con la pavimentazione un po' bagnata, così che rimane lucida. Visto che bella.